Benvenuti o bentornati su Fanta Polen e benvenuti nel Fanta Mercato dell'Atalanta Il mercato che io farei se fossi il direttore sportivo della DEA Quindi le operazioni di calciomercato in entrata e in uscita Che io farei se fossi il direttore sportivo dell'Atalanta Chiaramente non sono previsioni, sono opinioni personali È un gioco che però credo possa essere abbastanza verosimile Insomma, tenete di conto che il mercato l'ho preparato più di un mese fa Quindi ci sono calciatori che magari si sono trasferiti altrove nell'arco di questo mese Ma quando io ho preparato il video chiaramente queste operazioni non erano state effettuate Prima di cominciare però un annuncio Per cercare di completare questa playlist dei 20 Fanta Mercati della Serie A Ho dovuto fare una scelta, cioè quella di non editare i prossimi video Se andate indietro e vedete i Fanta Mercati che ho già portato Del Bologna, del Cagliari, della Lazio, del Lecce, eccetera eccetera Trovate anche l'editing di queste squadre, no? Con proprio il bilancio, la formazione tipo Mi porta via del tempo fare l'editing sia nel farlo che nel caricarlo Ma fra due settimane inizia il campionato C'è da parlare di tante cose, tante operazioni E poi ci saranno le post partita, non ce la faccio A fare l'editing con i tempi Quindi vi porto i video senza editing Abbiate pazienza, da questo video in poi saranno senza editing Così facendo riesco a portarli tutti Bene, come impostiamo il mercato dell'Atalanta? Lo impostiamo sul 3-4-2-1 ovviamente Confermato Gasperini giustamente in panchina Che operazioni andiamo a fare? Andiamo a fare due sessioni eccellenti Con le quali ci finanziamo un pochino tutto il mercato E andiamo a dare un pochino più di alternative In quei ruoli cardine dove essendo Gasperini un allenatore Che spreme molto a livello di risorse e di energie I propri calciatori dove abbiamo bisogno di ricambi di un certo livello Nei due reparti invece, nei due ruoli diciamo Di punta e di porta farò invece delle decisioni nette Dove daremo piena fiducia a un calciatore nello specifico Ovviamente il mercato è a zero Nel senso che non chiedo soldi alla proprietà per comprare calciatori Quindi concludiamo il mercato a zero milioni E non utilizzerò i soldi della qualificazione in Champions La vittoria dell'Europa League Sono soldi che la società si terrà poi eventualmente Per alzare il monte in gaggi Per fare investimenti strutturali Tutto il resto però non per la squadra Cominciamo subito quindi con la porta Nella porta il reparto conta Carne Secchi, Musso, Rossi e Gollini Che ci rientra dal prestito al Napoli Allora Prime scelte da fare Carne Secchi secondo me o ci puntiamo o non ci puntiamo E io penso che sia arrivato il momento di puntarci fermamente Non è un portiere vi dico la verità che a me fa impazzire Non lo vedo un portiere particolarmente continuo Spesso è incerto in alcune situazioni Però è un portiere dal grande potenziale Quindi lo teniamo come titolare Musso Che è in scadenza di contratto E che probabilmente non vuole fare un altro anno La riserva Lo andiamo a cedere Lo cediamo al Napoli Che invece poi quando vedrete il fantamercato del Napoli Farà un altro tipo di valutazione Andiamo a cedere Musso al Napoli Per 6 milioni di euro Rossi ce lo teniamo come terzo portiere Va benissimo Gollini che ci rientra dal prestito appunto dal Napoli Portiere a mio avviso non da Serie A Che o va in campionati stranieri di minor livello Come potrebbe essere quello turco Va al Karagumruk della situazione Oppure lo cediamo in Serie B Comunque conto di cederlo a titolo definitivo E conto di incassare dalla sua cessione 750 mila euro Poco Anche troppo per quello che vale secondo me Quindi 750 mila euro Quindi ci rimangono Carne secchi e rossi Ci serve un vice carne secchi Una riserva Che eventualmente Se Gasperini vorrà Potrà schierarlo Nelle partite europee Se non si fida di carne secchi Come è stato l'anno scorso Che in Europa League ha sempre giocato Musso Anche la finale Io vado a prenderlo dal Nottingham Forest E mi vado a prendere Vlaco Dimos Portiere greco Che ha giocato Tanto tempo nel Benfica Da titolare Quindi esperienze europee Di Champions Ne ha parecchie E ha giocato anche tanto in nazionale Quindi si sta parlando di un portiere Di grande esperienza Non è vecchissimo Mi sembra abbia 29 anni Una cosa di questo tipo Un portiere secondo me Che è il secondo l'Atalanta Lo può fare Considerando che potrà giocare Le competizioni europee Quindi Vlaco Dimos Conto di pagarlo 3 milioni di euro E sarà il mio vice Carne secchi Per la prossima stagione Andiamo ai difensori Centrali Allora qua Ci sono delle valutazioni Importanti da fare Qui abbiamo Scalvini Jim City Ian Colasinac Abbiamo Toloi Abbiamo Palomino Abbiamo Bonfanti E poi ci rientrano Dai prestiti Al Frusinone Ocoli E dal Monza Barra Genova Che ha fatto mezza stagione Di qua E mezza stagione Di là Cittadini Allora Scalvini bisogna fare Delle valutazioni importanti Scalvini è un giocatore Che vale tantissimi soldi Perché è giovanissimo Che si è rotto il crociato All'ultima giornata Della passata stagione Nel recupero Contro la Fiorentina Calciatore che ha Tanto mercato Allora io cercherei Considerando che Dobbiamo intervenire Sul mercato Perché lui non ce l'abbiamo Quest'anno praticamente Quindi dobbiamo intervenire Sul mercato Io lo cedo Perché intervenire Per prendere un titolare In quel ruolo lì Poi mi rientra Scalvini Ne ho due Di alto livello Magari sono in difficoltà Quindi lo cedo Con una formula Che però sia chiaramente Tutelante Per l'acquirente Quindi lo cedo In prestito oneroso Con diritto di riscatto Il prestito oneroso È di 15 milioni di euro Quindi lo cediamo A un Manchester A squadre di altissima Caratura Con 15 milioni Di costo del prestito Con 40 milioni Di riscatto Quindi complessivamente Possiamo incassare 55 milioni Dalla cessione Scalvini Che sono le cifre Di cui si parla Però lo cediamo In prestito con diritto In modo tale Che la squadra Che lo acquista Può valutarne L'integrità fisica E noi intanto Incassiamo 15 milioni Poi eventualmente Il prossimo anno Ne incassiamo 40 Gym City Ce lo teniamo Calciatore Insomma Vice capitano Della squadra È un giocatore Dal rendimento costante A me piace tanto Ien ce lo teniamo Assolutamente Gran colpo Colasinac Ce lo teniamo Assolutamente Ma vado a fare Anche un altro acquisto In quella zona di campo Perché è un giocatore Che ha qualche problemino Fisico di tanto in tanto Toloi Ce lo teniamo Come riserva Però ce lo teniamo Palomino Lo salutiamo Scade il contratto Bonfanti Lo diamo in prestito In serie B Perché deve maturare Un pochino Di esperienza Di minutaggio Ocoli È stato ceduto All'Eister Per 15 milioni È tantissimo Secondo me Perché Giocatore che io Quando avevo preparato Il calciomercato Pensavo di cederlo Intorno ai 6-7 Invece 15 milioni L'Atalanta è riuscito A incassare All'Eister Per Ocoli E quindi mettiamo Questo più 15 Per la cessione Di Ocoli Cedo anche Cittadini Che secondo me Ha bisogno Di un campionato Di serie B Importante In una squadra Magari di alta classifica Serie B Conto di incassare 2 milioni Dalla sua cessione A titolo definitivo In serie B Quindi ci rimangono Jim City Ien Colasinac E Toloi Allora Ien è per me Titolare al centro Della difesa Jim City Ha la sua riserva E può giocare Anche braccetto Di sinistra Tranquillamente Mentre Colasinac Lo vorrei alternare Su quel lato Toloi ha chiaramente Una riserva Quindi abbiamo bisogno Di due titolari O comunque due Che entrano nel giro Di titolari Allora Il primo lo vado a prendere In prestito Con obbligo di riscatto Se avete visto Il fantamercato L'udinese Già lo saprete E Neuwen Perez Neuwen Perez Che è destinato Alla partenza Lo prendiamo in prestito Con obbligo di riscatto Prestito gratuito Con obbligo di riscatto A 18 milioni di euro Quindi lo paghiamo Il prossimo anno Però lo prendiamo Già da quest'anno Ed è adatto Alla difesa 3 Conosce bene Il nostro campionato Secondo me è perfetto Per il calcio di Gasperini A uomo E quindi Neuwen Perez 18 milioni di euro Il prossimo anno Dall'udinese L'altro Per il lato sinistro Del campo Un giocatore Che in serie A Ci è arrivato In realtà Ma è andato al Milan Io però Quando ho preparato il fantamercato Lo vedevo tanto bene Nell'Atalanta Ed è Pavlovich Dal Salisburgo Io quando ho preparato Il fantamercato Avevo messo 20 milioni Il costo dell'operazione È andato al Milan Per 18 Quindi Il costo Grosso modo È quello lì Pavlovich Secondo me È un giocatore Un po' più bravo E Diciamo Nella Nella posizione Che nella marcatura uomo Però è un giocatore Di grandissima forza fisica E di Di grandissima Anche Qualità tecnica È un giocatore forte Anche nell'area avversaria Insomma È un giocatore Secondo me Perfetto Anche per questo Tipo di gioco E quindi Per me Pavlovich È un giocatore Da Atalanta Anche da Milan Però lo vedevo bene All'Atalanta E quindi Io l'avevo messo All'Atalanta Per 20 milioni di euro Da Salisburgo E quindi Il trittico Diciamo Titolare Per me È Neuem Perez Ien Pavlovich Con Colasinac Gym City E Toloi Come alternative Di lusso Perché comunque Sono giocatori Forti Andiamo Agli esterni Qui sugli esterni Abbiamo Olme Zappacosta Hatebur Ruggeri Baccher Soppi Che ci rientra Dal prestito Dallo Schalke C'era un Un diritto Di riscatto Insomma Però Non è stato esercitato Quindi ci rientra Dallo Schalke E Zortea Che ci rientra Dal Frosinone Allora Capitolo Zortea Il giocatore non piace A Gasperini È palese Quindi Lo cediamo Nella realtà è stato valutato 5 milioni Andato al Cagliari Nell'operazione sulle mana Io nel mio fantamercato L'avevo valutato 5 milioni Ma l'avevo ceduto al Torino Quindi Zortea al Torino Per 5 milioni E lui Ci monetizziamo Monetizziamo un pochino Anche da Soppi Che in realtà Giocatore di grande prospettiva Ma che anche lui A Gasperini non piace Quindi è inutile tenere calciatori Che non piacciono all'allenatore Soppi lo diamo in prestito All'estero Prestito oneroso A 500 mila euro Con diritto di scatto Intorno ai 5-6 milioni Magari in Ligue 1 Secondo me potrebbe far bene Baccher Stesso discorso Calciatore che non ha legato Con l'allenatore Quindi è inutile tenerlo Lo cedo in Bundesliga Perché arrivava da lì Ma potrebbe tornare anche in Olanda Dove è cresciuto Ha fatto bene anche in Francia Col Paris Quindi insomma Secondo me i stimatori Baccher ne ha Conto di incassare Dalla sua cessione 5 milioni e mezzo Facciamo una leggerissima minusvalenza Ma è funzionale Insomma la dobbiamo fare Olmes Scade il prestito con lo Spezia Non lo riscattiamo Perché non è stato all'altezza Insomma del livello della squadra Quindi ci rimangono Zappacosta Atebur e Ruggeri Allora per me Ruggeri È titolare sulla sinistra È un pupillo di Gasperini E ce lo teniamo Per quanto riguarda Zappacosta Che lo vedo Alternativo sia a destra Che a sinistra E Atebur Sono calciatori Di cui dobbiamo cercare Un ricambio Perché Cominciano ad avere una certa età Sono calciatori molto fragili Fisicamente Quindi cosa vado a fare io Questo è quello che Che faccio Io di esterni Ne prendo 6 Cioè ne voglio avere 6 Due titolari Due titolari Due alternative importanti Che sono Atebur e Zappacosta E due riserve Giovani Che possano poi sostituire Atebur e Zappacosta Il prossimo anno Questa è la prospettiva Che vado a fare Quindi Andiamo a prendere Intanto il titolare Sulla destra E lo vado a prendere Dal Torino Nell'operazione Che porta Zortea Al Torino Prendo Bellanova Bellanova Che al Torino E esploso Nel ginone di ritorno E che calciatore Che interpreta bene Il ruolo di esterno In centro campo Che ha già Anche vestito la maglia Dell'Inter Anche se senza mai Giocare con continuità Però insomma Determinati palcoscenici Li ha già visti E' stato anche convocato In nazionale Lo valutiamo 20 milioni Quindi paghiamo 20 milioni Il Torino E gli vendiamo Anche Zortea Quindi in realtà E' 15 milioni Più cartellino Di Zortea Per Bellanova E sarà il mio titolare Sulla destra Sulla sinistra Vi ripeto Abbiamo Ruggeri Le alternative sono Zappacosta E Atebur Prendiamo le riserve Delle riserve Che diventeranno Poi invece Le seconde linee Nel prossimo anno Sulla destra Vado dal Coventry City Serie B Inglese Mi vado a prendere Vanewick Ex Erenven Terzino Esterno Più che terzino Di grande gamba Con un buonissimo cross Che attacca anche Il centro del campo Giocatore che secondo me Può interpretare Il ruolo in un modulo In un assetto di gioco Come quello dell'Atalanta Quindi Vanewick Per me Che lo pago 6 milioni di euro Dal Coventry È l'alternativa Sulla destra Sulla sinistra Invece Vado a prenderlo Dallo Young Boys Vado a prendere Un giocatore Che a me piace tanto Tant'è che Tre anni Che lo inseriscono I fantamercati Che è Castriotti Meri I Meri Che ha lo Young Boys In realtà Non si è ambientato Benissimo Ma che è Un calciatore Che ai tempi Del servetto Insomma Fece vedere Grandi cose Che ora Sta giocando Mezzala Ma non è una mezzala È un esterno Di centro campo Puro Che ha Grande capacità Di Di Proprio Di Di coprire Tutta l'ampiezza Del campo Bravo In entrambe le fasi Non è Iperdeterminante In zona offensiva Però è un giocatore Molto tattico Quindi È un giocatore Che secondo me Può fare molto Al caso nostro Lo paghiamo 2 milioni e mezzo Dallo Young Boys In cui non si è ambientato Benissimo E sarà La mia alternativa Sulla sinistra Andiamo ai mediani Qui giochiamo a 2 Io come mediani Ho messo Deron Ho messo Coopminers Ho messo Ederson Ho messo Pasalic Che in realtà Può giocare anche Nelle altre quarti Poi abbiamo Adopo E Covalenco Che ci rientra Dal prestito All'Empoli Allora Coopminers È il grande sacrificio Di questa sessione Di mercato Io lo vendo All'estero Dicevo Voleva Il Liverpool Insomma Giocatore che Verrei molto bene Tipo anche al Manchester City O al Barcellona Giocatore da quei livelli Lì E io conto Di incassare Per la sua cessione Perché si tratta È un 25enne Quindi un giocatore Che è ancora Nel pieno della carriera Conto di incassare 65 milioni di euro Troppi? Forse sì Però vedendo Le cifre a cui si trasferisce Alcuni calciatori In questa sessione Di mercato Secondo me Ci sta Quindi 65 milioni di euro È quanto conto Di incassare Per la cessione Di Coopminers Deron Ce lo teniamo Ma attenzione Attenzione Lo scalo A riserva Non perché il giocatore Non sia all'altezza È uno dei miei giocatori Preferiti In assoluto Del campionato italiano Ma perché Abbiamo bisogno Di un calciatore Che possa dargli Un po' di ricambio Quindi un calciatore Giovane Che abbia Quel tipo Di letture tattiche Quelle capacità Di recupero palla Cioè abbiamo bisogno Di un calciatore Del tipo lì Quindi Deron Me lo tengo Come riserva Ederson Invece come titolare Sulla mediana a due Pasalice Me lo tengo Come jolly Tra mediana E tre quarti A dopo Lo scediamo Io lo scedo In serie B Nella realtà È andato in prestito Al Cagliari Ma io lo scedo A titolo definitivo In serie B Per un milione di euro Covalenco Lo scedo A titolo definitivo O all'estero O anche lui In serie B Conto di incassare Due milioni di euro Per Covalenco Quindi ci rimangono Deron Ederson E Pasalice Io vado a prendermi Un titolare Lì in mediana Accanto a Ederson E una riserva Allora il titolare Se avete seguito I miei fantamercati Saprete già chi è È Frendrup Del Genoa Che secondo me È il miglior calciatore Della serie A Lo dicono anche le statistiche Ma basta vedere le partite In interdizione Nei contrasti Nei recuperi palla Negli intercetti Un giocatore Di un'intelligenza disumana Che ha un dinamismo Un'energia Incredibile Che è anche molto pulito Palla al piede Quindi sa anche gestire Un giocatore completo Sa fare tutto Tra l'altro Due anni fa Il Genoa Quando era nel serie A Nell'anno Nella retrocessione Giocava esterno Di centro campo Quindi ti può fare Anche quel ruolo lì All'occorrenza Un giocatore eccezionale Che io ho valutato Nel trasferimento Tra Genoa e Atalanta 23 milioni di euro In realtà La Genoa Sembra che per meno Di 30 milioni Non lo sceda E secondo me è anche giusto Per quello che vale Il calciatore Però io ho considerato Come cifra credibile 23 milioni Ribadisco forse è poco Comunque 23 milioni Paghiamo al Genoa Per Friend Group Che sarà il mio titolare Come giocatore di rottura E con Deron Che magari invece Lo inseriamo Nelle partite Di alto profilo L'altro giocatore Che prendiamo in mediana Andiamo a prendere Un giocatore Che la Serie A La conosce bene Perché l'ha già giocata Con due maglie diverse Quelle di Venezia e Spezia E lo andiamo a prendere Dal Litz Andiamo a prendere Ampadu Calciatore che in realtà Con la maglia del Venezia Ha fatto il difensore centrale Ma anche con lo Spezia Ha fatto il braccetto Della difesa 3 a destra Però Nasce mediano Quindi è un giocatore Che ha un buon piede Per impostare Ma che ha grandi movimenti Difensivi È un jolly eccezionale Un po' come Deron Ha quel tipo di caratteristiche Ampadu Lo pago 14 milioni E lo metto Come alternativa A centro campo Considerando che Se Toloi Non dà garanzie Anche fisiche Può fare anche L'alternativa E Neu e Perez Quindi Ampadu È un ottimo jolly Per il centro campo Andiamo alla tre quarti Allora qua abbiamo De Ketelare Mirancuk Lukman Lo considero tre quarti Allora Parliamo tutto il reparto offensivo Ok? I tre quarti attaccanti Allora Abbiamo De Ketelare Mirancuk Lukman Scamacca E il Bilal Touré C'è Duvan Zapata Con riscatto al Torino Di Serio Sempre riscatto allo Spezia Collei Con riscatto allo Young Boys Piccoli Che ci diventano il prestito A Lecce E Cambiaghi Che ci diventano il prestito All'Empoli Allora Capitolo di De Ketelare 22 milioni di riscatto Dal Milan Li paghiamo E ce lo teniamo assolutamente Mirancuk Nella realtà È andato a 12 milioni All'Atlanta City Sono tanti soldi 12 milioni Però io quando avevo preparato il mercato Mirancuk Me l'avevo ottenuto Come riserva di De Ketelare Perché quando ha giocato Mirancuk Anche l'Atalanta Ha fatto bene Quindi Io Mirancuk Sinceramente me lo tengo Poi La logica dell'Atalanta Nella realtà La capisco Cioè Cedo Mirancuk A 12 milioni Prendo Zaniolo In prestito Con diritto di scatto A 2-3 milioni in più Di Mirancuk Faccio un bello affare Prendo un giocatore più giovane Che conosce il campionato italiano Potenzialmente più forte Se sta bene fisicamente Si integra bene Nel sistema di gioco Mi sono rinforzato Senza pagare di più Giustissimo Io però Nel mio fantamercato Ho ottenuto Mirancuk Lukman Che è l'eroe Dell'Europa League Lo teniamo assolutamente Scamacca Lo teniamo assolutamente Perché Giocatore Che ancora non ha fatto vedere Tutto quello che sa fare È esploso Nel giorno di ritorno E poi abbiamo Il Bilal Touré Che è un giocatore Che a me non piace A Gasperini neanche Credo Però è stato pagato Uno sproposito L'anno scorso Tipo 28 milioni 30 Una cosa incredibile Non è eccedibile Ora se fai una minusvalenza Leggera come con Baccher Ci fai 2 milioni Di minusvalenza Pazienza Ma su il Bilal Touré Fai una minusvalenza Di 20 milioni Non ce la possiamo permettere Quindi il Bilal Touré Cosa facciamo Lo teniamo Come riserva di Scamacca E Scamacca Sarà il titolare Indiscusso Cioè Poi eventualmente Giochiamo con De Chetelare Falso 9 Giochiamo con Lucman Falso 9 Però Il Bilal Touré Lo dobbiamo tenere Dobbiamo farlo ammortizzare Il costo del cartellino È incedibile Quindi Il Bilal Touré Lo teniamo Dovan Zapata Lo riscatta al Torino Incassiamo 5 milioni E 600 mila euro Di serio Lo riscatta lo Spezia Incassiamo un milione e mezzo E Collei Lo riscatta lo Young Boys Incassiamo un milione E 650 mila Piccoli Che rientra dal prestito A Lecce Io lo presto Lo presto con diritto di riscatto In Serie B Nella realtà è andato al Cagliari Per me Piccoli Non è un giocatore da Serie A È un giocatore da Serie B Quindi lo prestiamo in Serie B A una squadra che punta la promozione Con un diritto di riscatto Che diventa obbligo In caso di promozione E così ci leviamo di torno A un giocatore che non ci serve a niente E i cui prestiti in Serie A Non lo stanno valorizzando Quindi lo diamo in Serie B Prestito gratuito Capitolo Cambiaghi Nella realtà L'Atalanta l'ha venduto A 10 milioni al Bologna Per me è una follia assoluta Un giocatore che secondo me Ha dimostrato pochissimo In Serie A Tranne i Lampi Nel giro di ritorno Di due anni fa Con l'Empoli Però Un giocatore che non si è assolutamente Confermato quest'anno Che non vale assolutamente 10 milioni Io nel fantamercato Nel mio Bologna Ho fatto scelte completamente diverse E quindi Per me Cambiaghi è un giocatore Che può valere 4 milioni E questo è quanto l'ho valutato Quindi io lo faccio riscattare Dall'Empoli Dove ormai si è ambientato Si trova bene 4 milioni però Incassiamo dalla cessione di Cambiaghi Nella realtà È andato via A di più Buon per l'Atalanta Che sta facendo operazioni clamorose Ocoli Cambiaghi Miran Cucca Cioè ha preso 30 milioni Da 3 giocatori Che non Uno era una riserva E due sono giocatori Che nei prestiti Hanno fatto vedere poco o nulla Bravo Complimenti insomma All'Atalanta Però Io nei miei fantamercati Sarò cattivo Ma non faccio La cazzata Che ha fatto il Bologna Cioè io nel fantamercato Il Bologna Non prendo Cambiaghi a 10 milioni Ma nessuna squadra In serie A Faccio prendere Cambiaghi a 10 milioni Perché per me Non torna Non è un'operazione credibile Non è un'operazione giusta È troppo Quindi io nei miei fantamercati Cambiaghi L'ho venduto a 4 All'Empoli Quindi incassiamo 4 milioni Quindi per me Scamacca è il titolare davanti La riserva La facciamo fare A Elbil Artureo Comunque all'occorrenza A Lukman E a De Ketelare Teniamo Miran Ciucca come alternativa Sulla tre quarti destra Mancino di piede Pasalic Che può tranquillamente Giocare in questa posizione Ne andiamo a prendere un altro Andiamo a prendere Un prospetto internazionale Un calciatore Che andiamo a inserire Come riserva Come titolare Della nostra squadra Ma che Potenzialmente Potrà diventare Titolare E anche top player Secondo me Per le qualità che ha In quella zona di campo Vado dal Krasno Da Remy Prendo Sperzian Calciatore armeno L'erede Per caratteristiche Per qualità Per ruolo Di Mkhitaryan Lì nella nazionale Calciatore Di enorme eleganza Di enorme qualità tecnica Che vede la porta Vede proprio negli ultimi 30 metri Ha una concretezza Nei tiri Negli assist Incredibile Bravo Dai piazzati Che ha anche Una buona progressione Palla al piede Tecnica Non potente Tecnica Da Luis Alberto Per intenderci Ma ce l'ha Giocatore Che secondo me Nel sistema I giochi Gasperini Potrebbe esplodere Completamente E farti 10 Go e 10 Assist Cioè un giocatore Ce li ha Quei numeri Lo prendiamo Come alternativa Ai Lukman De Ketelare Paslich Insomma siamo Ben forniti In quel reparto Lì però ci prendiamo Anche Sperzian Lo paghiamo 20 milioni di euro Perché il suo valore Grosso modo è quello Dal Krasnodar E lo mettiamo Come alternativa Sulla tre quarti Quindi Che Facciamo Che l'Atalanta È venuta fuori È venuta fuori L'Atalanta che secondo me È più ricca A centro campo E in difesa E sugli esterni Dove C'era bisogno Di qualche ricambio Perché l'Atalanta Spesso è andata in emergenza In quelle zone di campo Ha dovuto adattare calciatori Cioè Deron difensore centrale Non lo voglio vedere più Ma non perché Non sia efficiente Deron sa anche Fare quel ruolo lì Ma voglio un difensore vero E sugli esterni Ci sono calciatori Che hanno giocato spesso Non al 100% La condizione Perché non c'era riserve E A centro campo Spesso ci hanno fatto Giocare Pasalic Che non ha Cioè Ci può giocare Ma è un adattato Non ha Non ha l'intensità Che si richiede al mediano Cioè Ho fatto una squadra Che è molto più Ricca Di alternative In difesa A centro campo E sugli esterni Dove c'era bisogno Secondo me Di un po' di seconde linee E davanti Ho dato fiducia Al tridente Dell'anno scorso A Scamacca Lucman E De Chetelare Ho preso Sperzi Anche secondo me Un potenziale crack Ho ottenuto Miranciuc Come alternativa Il Bilal Touré Secondo me È un acquisto sbagliato Dell'anno scorso Che dobbiamo scontare E quindi In attacco Non ho portato Nuovi innesti Di primo livello Perché se no Me l'Atalanta Non ne ha bisogno Mentre invece Nelle altre zone Il campo Qualcosa serviva Facciamo il recap Della formazione Quindi Di tutti i ruoli Che abbiamo coperto Partiamo dalla porta Abbiamo Carnesecchi Come titolare Con Vlaco Dimos Come alternativa Il tridente titolare Di difesa Per me Neu Mperez E Ian Pavlovich Le alternative Sono Toloi Jim City E Colasinac Ci può giocare anche Ampadu In realtà In quel ruolo lì Ma diciamo Nel gioco delle coppie Ho messo questi Sulla destra Esterni destra Abbiamo Bellanova Con Atebur E Vanewick Come alternative Sulla sinistra Abbiamo Ruggeri Con Zappacosta E Imeri Come alternative Coppia Di mediani Titolare Nella mia testa E Deron Scusate E Frendrup Ederson Con Deron E Ampadu Come alternative Tre quarti Molto ricca Diciamo che L'attacco Titolare Per me De Chetelare Lukman Scamacca Però abbiamo Miranciuk Abbiamo Sperzian Abbiamo Pasalic Abbiamo Elbilal Ture Insomma Un attacco Ben Fornito Anche in questo caso Questa è la mia Atalanta Che conclude Il mercato Con 0 milioni Di spesa Con un montengaggi Che non dovrebbe Alzarsi Particolarmente Anzi Forse si abbassa Un pochino Quindi Un'Atalanta Che non spende Ma che Si rinforza Secondo me Perché crea una rosa Più ampia Per poter competere Su tutti gli obiettivi E poter avere sempre I giocatori al 100% Che ha tante alternative Che ha una rosa Insomma Anche con Prospettive Perché sono tutti Calciatori giovani Quelli che sono arrivati E che quindi possono aprire Un nuovo ciclo All'Atalanta Un ciclo tecnico Ma anche eventualmente Economico Con le eventuali Plusvalenze Del futuro Quindi Questa è La mia Atalanta Ditemi cosa ne pensate Se vi piace Se siete d'accordo Con le operazioni Se vi piace Di più il mercato L'Atalanta Sta facendo nella realtà O quello che ho fatto io Insomma Scrivetemi nei commenti Il vostro parere Se vi piace O non vi piace Voi commentate Io leggo E rispondo sempre a tutti Condividete il video Con le persone che pensate Possano apprezzare I miei contenuti E iscrivetevi Soprattutto al canale Se non lo siete Per supportarmi Perché l'Atalanta È la big Più seguita Sul mio canale Quindi è quella A cui do anche Maggior spazio Noi ci vediamo dunque Ai prossimi video Che saranno dedicati All'operazione Di calciomercato Reali Insomma Che avvengono Nella realtà E trovate sul canale I video dedicati A Godfrey A Zaniolo A Sulemana L'ho portati I video sui colpi Di mercato Dell'Atalanta Noi ci vediamo dunque Ai prossimi video Un caro saluto a tutti Ciao